Ragazzi bentornati a tutti sul canale di AlexMotoTravelers, oggi un nuovo video, un video breve, ma ci tenevo a spiegarvi il prossimo evento che andrò a fare, cosa c'è dietro di me, come ho equipaggiato la moto per andare a fare questo evento, uno degli eventi più importanti di adventuring in Italia, secondo me è anche uno dei più belli se non il più bello. Stiamo parlando della HAT, quindi Hard Alpitour San Remo Sestrier, famosissima per la notturna o le notturne che si possono fare, ma ne parliamo tra poco, intanto vi faccio vedere la mia compagna di viaggio per questa nuova avventura, la Rally Explorer, ovvero la Tigerona che mi ha accompagnato durante l'Africa Ecoreis, quella tutta gialla per intenderci, non c'è più, ma uscirà un video che ho già preparato dove vi parlo un po' di quella moto, di tutti i chilometri che abbiamo fatto insieme, dei pro, dei contro, qui invece al posto di una 1200 Rally Explorer abbiamo una 1200 Rally Pro, perché è Rally Pro? Perché ha il serbatoio da 20 litri, quindi è un po' più piccola, non ha il radar posteriore, quindi non abbiamo neanche il blind spot detection, la lucina che ci avverte di se qualcuno arriva nella tre quarti nell'angolo cieco, e quindi abbiamo una moto un po' più leggera per andare a fare un evento che comunque è molto fuoristradistico, per questo sulla Tigerona abbiamo montato delle Metzeller Caru 4, sono molto 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 curioso di provarle, perché non ho mai provato queste gomme qua, Metzeller Caru 4 non le ho mai usate, quindi sono molto molto curioso, ci tengo a precisare che andrò a Sanremo con il furgone, perché devo portare tutto per lo stand di Interphone, appunto se mi passate a trovare mi troverete venerdì tutto il giorno allo stand di Interphone, quindi se avete bisogno di assistenza sugli interfoni sono super disponibili, anzi se venite portate anche una birretta, o se no ci vediamo a Sestriere domenica, quindi domenica se non sbaglio oggi è il 6, domenica 10, domenica 10 settembre ci troviamo a Sestriere perché sarà il punto di arrivo di questa Hard Alpi Tour 2023 come al solito. Allora, a parte la Tigerona che è in versione adventuring team di Triumph, perché appunto ci sarà anche il perfetto di Moto.it, Luca Viglio, sapete che è già 2-3 anni che organizzano questo adventuring team di Triumph, quest'anno ci sarò anche io, anche se come sempre io non andrò con loro, ma io guiderò, tra virgolette, il gruppo del team Interphone, e anche lì da 3-4 anni facciamo questa iniziativa, quindi porto sempre dei ragazzi a fare Hard Alpi Tour, che magari non sono mai stati, non sono mai venuti. Quest'anno andremo tutti e tre con tre Triumph Tiger come questa qui, quindi comunque una moto impegnativa, dal peso impegnativo, ci sarà anche Giulia, bravissima, che ha fatto l'Atpavia Sanremo, e comunque per una ragazza magari non tanto alta, guidare questa moto qua, soprattutto in off, non è per niente facile, ma Giulia ha un Africa Twin 1000 e ha già fatto l'Atpavia Sanremo, quindi assolutamente si è dimostrata veramente una ganza incredibile. Comunque, questo video è un po' corto, leggero, era per farvi vedere un po' come ho equipaggiato la moto, siccome andiamo in fuoristrada noi faremo l'At Classic, l'At Classic è quella di 24 ore, che parte da Sanremo il sabato mattina e l'arrivo previsto è domenica verso mezzogiorno, primo pomeriggio a Sestriere, quindi circa 590 chilometri, quasi, quasi tutti in fuoristrada, passi famosissimi, quindi da Sanremo risaliremo attraverso le Alpi fino ad arrivare a Sestriere. Molto molto interessante perché è questa formula, perché si guida anche di notte, di notte di solito ci si ferma a dormire 2-3 ore così per terra, una notte ho dormito, questa è la mia quarta HAT, una notte l'ho fatta in un distributore buttato per terra, una notte nel bosco, una notte non ho dormito, una notte se si aveva rotto la moto, il T7, il carter ha perso l'olio, quindi vabbè, un sacco di peripezie quella volta. L'ho fatta 2 volte con il KTM 1290R, il mio cappone, l'anno scorso l'ho fatta con la T7 di Ivan Buano, ve la ricordate? Quella T7 è la T7 più bella d'Italia, preparata ai massivi livelli, infatti è stata veramente spettacolare farla con quella moto. E quest'anno invece andiamo con la Triumph Tiger 1200 Rally Pro, è una moto di certo più da viaggio, più pesante, più adventure, ma sono molto curioso di usarla a fare un po' di fuoristrada, anche se comunque questa qui è la stessa moto che ho usato anche nel viaggio in Sudafrica, esattamente, anche il colore è lo stesso, è la stessa moto che ho usato appunto per il viaggio in Sudafrica, ci ho già fatto fuoristrada, magari non così impegnativo tra virgolette, però certi tratti dell'hat diciamo che è fattibile, non è che si va all'inferno, non è che si va a fare l'herzbergrodeo, è un po' più impegnativa, magari mi viene da pensare con le gilba di notte o arrivare a Prato Nevoso che è già buio, diciamo è un po' più croccante, però comunque assolutamente fattibile, anzi se non l'avete mai fatta raga, e vi piace l'adventuring, ve lo consiglio. Sulla moto, come vedete, abbiamo montato un po' di accessori, perché appunto si guida anche di notte, ci fermiamo a fare, a dormire, a riposare due o tre ore sabato notte, quindi mi porto il materassino, è un sacco a pelo se per caso fa freddo, per stenderci al lato della moto, giusto per riposare qualche ora, quindi dietro, visto che tanto non ho passeggero, SV Motec Cargo Bag da 50 litri, borsa SV Motec che vedete che uso spessissimo, con quattro ganci si aggancia un po' ovunque, qua vedete, qua i tiranti, qua si mette la fettuccia, ci sono un sacco di tasche, qua di lato io di solito qua metto l'acqua, poi qua abbiamo questa piastra del sistema molle, quindi ci possiamo attaccare su tante altre cose, io mi porto sempre due rock straps, perché non si sa mai se devo attaccarci sopra qualcosa, e poi dopo andiamo ad aprire, abbiamo questa parte semirigida, dove possiamo andare a mettere i documenti, eccetera, eccetera, e poi ovviamente abbiamo la nostra borsa interna, attenzione, questa borsa qui non è waterproof, non è impermeabile, quindi questa si bagna, ma all'interno abbiamo una sacca dove mettere dentro tutte le nostre cose, sempre della capienza di circa 50 litri, dove possiamo andare a mettere dentro le nostre cose, ed è stagna, quindi non si bagna, quindi praticamente l'esterno si bagna, ma all'interno no, perché c'è la sacca stagna. Invece impermeabili sono le SW Motec Drybag 80, ragazzi queste vedete che ce l'ho praticamente su sempre sulla moto, perché sono bellissime, sono comodissime, e da non sottovalutare, sono molto molto resistenti, e ci sono caduto già qualche volta con queste borse, non con queste esattamente, ma ci sono caduto, e riparano un sacco la moto, perché ovviamente fanno da cuscino, sulle carene fanno spessore, e quindi veramente oltre ad essere impermeabili, queste sono le stesse che ho usato nel viaggio in India, che è appena concluso, e devo dire che veramente sono un accessorio della madonna. Come strumentazione poi abbiamo Garmin Montana 750, magari spegniamo la moto, Garmin Montana 750i, quindi con tecnologia in reach, vuol dire che anche se siamo in un posto dove non prende il telefono eccetera, ovviamente se abbiamo l'abbonamento, possiamo comunicare, io lo uso tantissimo in viaggio, e ovviamente qui andremo a mettere le tracce dell'Hardalpy Tour, supporto quadlock orientabile, vedete con il pivot, per orientarlo come vogliamo, vedete, qui basta che andiamo a sganciare, e possiamo orientarlo come vogliamo, con ovviamente l'antivibration dampener, quindi l'antivibrazione che smorza, le vibrazioni non ci varano per il telefono, fondamentale. Trovate il codice sconto del quadlock, qua sotto in descrizione, se volete comprarlo, c'è un piccolo sconto per voi, direttamente dal sito ufficiale quadlock, e poi per finire, come accessorio abbiamo montato questo cupolino VRS Sport Fumé, quindi vedete, molto più corto l'originale che arriva più o meno qua, molto più corto l'originale, molto più cattivo, e questo perché? Perché andando a far fuori strada, andando a fare un po' di mulattiere, eccetera, un po' di roba tosta, con il cupolino alto, c'è il rischio che, tante volte con il casco, con il casco da cross o adventure, si prenda dentro, quindi con questo molto più basso, tanto non andremo a fare tanta strada, poi da Sestrier dobbiamo tornare a Sarremo, sono circa quattro ore, ma non è un problema tanto, e quindi abbiamo sicuramente meno riparo dall'aria, però per andare a fare un evento come questo, è ottimo, e dà anche alla moto una linea, molto 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 più aggressiva, guardate che bella che è, sì, è decisamente bella così, poi con le Karu 4, devo dire che gli dà un, la rende un po' più, un po' più bastarda, dai, si può dire bastarda su YouTube, non lo so, lo scopriremo, e quindi niente ragazzi, le modifiche sono queste, il paracoppa è originale, le barre sono originali della 1200 Rally Pro, tra l'altro qua vedete che questa è già piegata, perché ovviamente questa è una moto usata, anche già, è andata già in terra parecchie volte, però vabbè, la moto comunque sta bene, non ha tantissimi chilometri, è stata controllata in Triumph prima di darmela, quindi la moto è a posto, ci ho già fatto un 200 chilometri su strada, di vari spostamenti in questi giorni, quindi questa qua è la mia compagna di viaggio, mi raccomando vi aspetto, se venite a Sanremo o a Sestriera in questi giorni, il video credo che uscirà di giovedì, quindi da venerdì sarò a Sanremo, venerdì 8, venerdì 8, e poi sarò a Sestriera invece domenica 10, quindi se volete passare a salutarmi a me, fa solo che piacere. Ovviamente poi si seguirà il video dell'esperienza l'Art Alpitour, saremo tantissimi amici come sempre, siamo una banda incredibile, e ci sono un sacco di video che devono uscire, c'è il mega video del Sudafrica, del viaggio in Sudafrica di aprile, che è uscito lunghissimo, sto cercando di capire se farlo uscire in un'unica tranche da un'ora e passa, o farlo in più episodi, c'è il video della Tiger, c'è il video del KTM Rally, ragazzi ho veramente un botto, io lo devo montare, mi servirebbe qualcuno che mi aiuta a montare i video, ma non ce la faccio. Va bene, già abbastanza lungo, quindi se avete qualche curiosità sugli accessori, eccetera, fatemi sapere come sempre, se non vi siete iscritti al canale, non vi costa nulla, e ci vediamo alla prossima avventura da Alex e la Tigerona.